ciao runners e ciao amanti della corsa io sono lorenzo maggiani e questo è il podcast da zero a 42 prima di lasciarvi a questa oretta di chiacchierata che ho fatto con un personaggio speciale con un progetto molto interessante voglio solo dirvi che è stata la mia prima registrazione online la mia prima chiacchierata registrata interamente online e non di persona per cui se ci fosse qualche problemino tecnico abbiate pazienza mi sembra comunque che l'audio sia mediamente più che decoroso non vi dico nient'altro se non augurarvi un buon ascolto se avrete voglia di spararvi tutta questa oretta e più di chiacchierata ciao a tutti ragazzi e sono qua per la seconda chiacchierata barra intervista di da zero a 42 e ho il piacere di avere un amico oltre che un ospite speciale per questa occasione ed è una persona che ci potrà raccontare tanto su noi runner tapascioni adesso capirete perché diamo quindi il benvenuto su da zero a 42 a giuseppe del gaudio ciao lorenzo grazie per l'invito grazie a te di essere qui allora tu sei conosciuto più che altro come giuseppe di runner's tales diciamo così però prima di quello dici chi è giuseppe chi sei cosa fai nella vita a parte correre ok io sono nella vita faccio il programmatore per un'azienda diciamo di comparazione online e sono sposato e a parte quello se le mie passioni sono la corsa la lettura il basket ho praticato basket per tutta la vita e negli ultimi anni avendo smesso mi sono dedicato alla corsa che è entrata la mia nuova passione lo racconti infatti bene nel tuo blog però effettivamente c'è chi ascolta magari qua non ti non ti conosce quindi veniamo proprio a quello perché da questa passione è nato il tuo progetto che si chiama appunto runner's tales come è nato e di che cosa si tratta si è nato con questa diciamo questa primavera un po anche durante il lockdown avevo voglia di mettermi un pochino in gioco sui sui social e stavo cercando qualche ispirazione appunto venendo dal mondo del basket ho un po prima pensato a quello poi effettivamente su quel mondo c'è una una grossa varietà di pagine facebook instagram twitter come possono essere over time una giornata tipo chiamarsi minus eccetera che si occupano di quello argomento quindi ho iniziato a guardarmi intorno la cosa che mi piace fare in questo periodo negli ultimi anni la corsa cerchiamo di fare qualcosa sulla corsa quindi mi sono un po' ispirato appunto magari anche una pagina come over time una giornata tipo pensando però fatta sul mondo della corsa il problema è chiaramente sul basket con avrei tanti aneddoti conosco tanti giocatori eccetera sulla corsa non conosco praticamente nessuno e quindi ho scelto di iniziare a raccontare storie di runner ma runner comuni e quindi tutti noi cioè praticamente chiunque abbia voglia di raccontarmi la sua storia può farlo e io la condivido volentieri quindi da qui è nato runner stales ormai sono tre mesi e qualcosina che il progetto è nato e ho iniziato a raccontare un po' di belle storie e comunque il progetto mi sta piacendo e saranno avanti secondo me abbastanza bene sì guarda del lato mio che l'ho scoperto un mesetto e mezzo fa due mesi fa non subito però ho recuperato anche alcuni articoli precedenti ed è davvero carino mi è piaciuto molto anche perché tu appunto non parli del personaggio top o almeno raramente l'hai fatto ma più che altro parli dei runner più comuni più tappascioni come dico sempre io infatti la mia mio quesito è cos'è che ti ha portato a parlare di loro e non piuttosto che un top un elite un top runner primo punto come diceva che non ne conosco molti di top runner mi sto man mano che vanno avanti i mesi comunque mi sto sempre informando di più anche sulla corsa quindi qualcuno in più adesso lo conosco anche e poi altra cosa che in realtà è stata vero la mia vera motivazione è stata che vuol dire tutti sappiamo la fatica che facciamo cioè nel stesso quando quando noi ci alleniamo per preparare una gara o comunque anche quando corriamo senza per forza avere un obiettivo preciso noi dedichiamo tempo energie magari spazio alle famiglie per dedicarci a qualcosa che ci piace che è la corsa e quindi questa questi sacrifici che facciamo di vario tipo fisico temporale eccetera hanno sappiamo cosa vogliono dire quindi volevo raccontare anche quello che che provano gli altri per far esprimere anche gli altri quello che che stanno che stanno dedicando per riuscire ad ottenere obiettivi ottenere i loro obiettivi sulla corsa e quindi da qui iniziato a raccontare storie un po di tutti perché poi anche le storie di tutti sono comunque belle no davvero sono d'accordo anche per ti faccio i complimenti anche perché di solito viene più facile fare un po come faccio io alla fine della fiera cioè parlare di se stessi cioè se tu vai in giro vai a cercare i blog gli account instagram dei runner sono 99 su 100 gente che si parla addosso e mi ci metto dentro anch'io invece tu sei uno di quelli che parla sì ogni tanto di se stesso ma alla fine l'hai fatto più ultimamente con le tue storie su instagram per la preparazione alla maratona e poi ci arriviamo però per il resto sei focalizzato sugli altri e non su te stesso che secondo me è molto apprezzabile grazie ti ringrazio molto eh sì diciamo che io di di base sono una persona abbastanza timida e anche un po introversa e il problema è che appunto per lo profilo social ho dovuto un po espormi e quindi sì anche iniziare a raccontare qualcosa di me perché ovviamente per preparare una storia ci vuole tempo e bisogna anche trovarle e quindi nel mentre qualche diciamo qualche intramezzo dove dove parlo di me dei miei allenamenti della corsa in generale lo lo sto mettendo nella pagina instagram però fai benissimo anche perché lo dicevamo per chi ci segue in podcast magari non ci ha seguito live su instagram abbiamo fatto una live su instagram così era una settimana fa dieci giorni fa e è venuto fuori proprio questo discorso qua sia per me che per te cioè il fatto di diffondere il contenuto nel tuo caso il tuo testo il tuo blog che senza i social è molto difficile sì direi che nel 2020 è praticamente impossibile esatto no no esattamente esattamente e qual è la storia più bella che hai raccontato finora ovviamente non dire la mia anche perché non è la più bella eh dirò una banalità ma dico tutte eh cioè nel senso ogni storia a sé e ogni storia che ho raccontato finora la la sua bellezza se poi vado a fare cioè proprio anche ricordarli pensando le velocemente ho raccontato del crice team che è un gruppo di donne che si sono trovate allenandosi con running mama e praticamente non si sono più lasciate ho raccontato di di debora che è una donna che ha avuto un matrimonio infelice è uscita è uscita diciamo anche grazie alla corsa ho raccontato di Irene che è questa ragazza che ha avuto la classica scena da sliding doors dove per due minuti non è riuscita a superare il test di corsa per arruolarsi nell'esercito e poi qualche mese dopo facendo volontariato si è rotta un blaccio e quindi adesso è un po' in stand by ho raccontato di un certo Lorenzo che si è messo appunto a fare un podcast sulla corsa ma anche per esempio le ultime due che ho raccontato che sono quella di Federico Mancini che è l'autore di Corri che ti passa che sono un libro che va assolutamente letto indipendentemente dalla si sia Corridori o meno perché comunque tratta vari temi anche che sono come anche per la depressione che sono molto interessanti e infine anche l'ultima quella di Marco che praticamente un ragazzo che ha perso la propria figlia e ha iniziato a fare questo sentiero come sfogo in Liguria e a furia di farlo tutti i giorni questo sentiero l'ha fatto diventare una corsa cioè penso che ogni storia racconta è bello perché parlano tutte di corsa ma hanno tutte delle sfaccettature che riguardano ambiti della vita completamente diversi sia belli che brutti appunto perché comunque la storia di Deborah e di Marco sono storie anche abbastanza pesanti da un certo punto di vista però anche che il fatto che riescano a rimettersi in gioco ripartire e soprattutto anche a raccontare la loro esperienza penso che sia stupendo no assolutamente quella di Marco è molto toccante proprio quando l'ho letta mi è venuto il nodo in gola come si suol dire mi fa piacere io che sono nettamente il più cazzeggione di quelli che hai elencato non c'è paragone rispetto agli altri mi fa piacere avere questo primato è comunque un'utilità sociale per noi lander che non è indifferente sì sono quello che non ci mette la faccia rispetto agli altri però almeno ci metto la voce mettiamola così ma possiamo fare anche un appello nel senso che hai bisogno di trovare altre storie e quindi possiamo dire qua di mandartele oppure sei a tappo c'hai l'agenda piena no no ogni storia è ben accetta ok allora ho qualcosa in cantiere ma portarmi avanti fa sempre bene quindi se qualcuno ha una da raccontare io sono sempre disponibile quindi ragazzi poi metto comunque nelle note dell'episodio tutti i vari riferimenti che poi li ripetiamo anche alla fine ovviamente mi raccomando mandate la vostra storia anzi contattate prima Giuseppe e poi mandateli la vostra storia così se avete qualcosa di bello di interessante da raccontare e sono sicuro che qualcuno di voi ce l'ha gli fate un piacere a lui e penso sia una cosa vicendevole sì grazie già che ci siamo facciamo un piccolo spazio pubblicità cambiamo un po' cambiamo un po' argomento perlomeno rimaniamo ovviamente sulla corsa ma proviamo a cambiare dal tuo blog e vediamo qualcosa di più personale parliamo finalmente di te insomma tu anche se un po' l'hai detto come ti ci sei avvicinato alla corsa? allora da io sono appunto giocando basket ho sempre fatto quello a un certo punto non lo so durante l'estate sai quando non ci sono più allenamenti ok vai un po' al campetto quando hai poco tempo magari ti metti un pochino a corricchiare è iniziato un po' così e ho finito a fare magari qualche gara in estate proprio quelle 5-6 km che si fanno ma proprio senza allenamento senza niente finché mi sono trovato nel 2013-14 non mi ricordo l'anno esatto con un mio amico a fare la Strassaronno che per niente è una classica 10 km che fanno qua in zona da me e quella volta lì mi ero allenato un po' di più ed ero stato io a trainare il mio amico fino al traguardo quindi comunque c'è stata anche questa cosa di supporto fisico emotivo al mio amico e da lì comunque le emozioni positive che ti dà la corsa le provi, cioè in gara le provi tantissimo secondo me e lì è stato poi un crescendo comunque ho mantenuto magari per un po' di anni ancora ho mantenuto parallelamente il basket come sport principale poi quando riuscivo a fare qualche corsa ho fatto qualche Stramilano altre corsette da 10 km qua e là però senza impegno fino al 2018 dove è stata la mia ultima stagione e a quel punto mi sono trovato ho detto vabbè mi sono convertito completamente alla corsa per non rimanere fermo e da lì ho iniziato a prepararmi e ho fatto nel 2019 le mie prime uniche tra l'altro tre mezze maratone e da lì ho chiuso il 2019 con ok sono riuscito a fare le mie prime mezze maratone con tempi anche abbastanza decenti cosa facciamo nel 2020? la risposta è stata niente perché poi sappiamo com'è andata però comunque il lockdown l'ho trovato non so se vado avanti un po' a parlare così il lockdown l'ho trovato abbastanza cioè da un certo punto di vista è stato molto sfiancante mentalmente psicologicamente come per tutti e vabbè io ho avuto la fortuna di essere in casa con mia moglie quindi sicuramente messo meglio di altre persone che magari erano solo eccetera però anche lì mi sono messo un pochino ad allenarmi un po' meglio più sulla core stability sulla potenziamento perché alla fine sì è vero sono in casa però non è che potevi fare queste grandi corse è arrivata l'estate quando sono ricominciato a uscire ho ricominciato a macinare chilometri aumentando aumentando e alla fine sono arrivato durante le vacanze a riflettere su cosa fare e mi sono dato come obiettivo la maratona un po' perché sto lavorando continuamente di smart working quindi il tempo per allenarmi ce l'ho fortunatamente comunque ho anche l'oreo flessibile che mi permette magari di fare allenamenti un po' più lunghi la mattina senza dover fare le 5 di mattina e quindi ho deciso proviamoci infatti mi sto allenando però non so se favo la gara eh adesso ci arriviamo ci arriviamo a quello tu comunque sei stato molto più bravo di me perché io quando giocavo a basket che è una delle cose che abbiamo in comune oltre anche a un background informatico e cose di questo tipo io se correvo era sotto tortura fondamentalmente e facevo anche un ruolo visto che io sono piccolino facevo il playmaker in cui era anche richiesto un po' di velocità di base e cose così ma io ero allergico completamente alla corsa al tempo lo facevo perché mi obbligavano eh sì e io facevo la guardia pessimo difensore sapevo solo tirare diciamo così era esattamente l'opposto mio perché io ero un buon difensore un play dignitoso ma facevo veramente schifo al tiro con le debite proporzioni ero tipo Tony Parker dei poveri ecco come stile di giocatore un po' più di difeso un po' meno offensivo e quindi la prima gara un po' ce l'hai già accennata è stata la una 5 km random cioè la vuoi raccontare oppure ci vuoi raccontare una gara più significativa sono passati troppi anni non mi ricordo neanche qual era esattamente la prima che ho fatto probabilmente era la la 3S di Rescaldina ma non garantisco quindi una prima gara fatta così è un po' a caso non proprio preparatissima zero proprio un puntato nella mischia forse ti racconterei vabbè l'astra Milano è stata bella un po' un po' perché dovevo farla con un amico che però sei infortunato quindi non l'ho fatta e un po' per l'atmosfera comunque la prima mezza maratona non si scorda mai assolutamente soprattutto soprattutto il mare alle ginocchia perché io avevo fatto l'errore di continuare ad allenarmi su diciamo uno sterrato o comunque un terreno cioè non proprio sentiero ma comunque poi classico sterrato da parco per capirci sì la strada bianca o la strada da parco e quindi poi mi sono trovato a fare 21 chilometri su asfalto le mie ginocchia non erano pronte e quindi ho fatto tipo gli ultimi 5 chilometri di sofferenza però appunto c'era questo mio amico che in realtà era accompagnato la moglie che anche lei runner che era al 19esimo chilometro si è messo a sventolare era lì a sventolare le bandiere non ho ben capito il motivo e comunque non sembra manca avere un po' di tifo al 19esimo chilometro mi ha fatto tirare gli ultimi due con meno fatica rispetto ai tre precedenti no ma la prima mezza sono d'accordo al 100% che non si scorda mai anche io ho dei bellissimi ricordi di quella al di là del risultato cronometrico che lascia il tempo che trova secondo me soprattutto nelle prime gare prime mezze anche prima maratona al di là di come va è proprio l'esperienza che vivi poi se uno si appassiona col tempo poi dice ok stavolta tiro anche al tempo cioè io per dire parlo per l'esperienza personale la mezza di Vienna la ricordo con molto affetto anche se ho fatto un tempo ignobile invece l'ultima mezza proprio a fine febbraio prima del lockdown in cui ho fatto il mio personale sì mi fa piacere aver fatto il personale però alla fine ok cioè sono andato lì ho corso e sono tornato a casa cioè è proprio un'esperienza completamente diversa quindi condivido sì sì ecco sì che poi è anche vero che dalla prima alle altre fai conto che in sei mesi io ho migliorato il mio best di 13 minuti quindi c'è proprio per capire che la prima non so come ho fatto a portarla a casa perché poi anche una volta fatta la prima ci prendi gusto iniziare ad allenarti meglio però sì effettivamente la prima è stata un po' ma è anche bello andare un po' alla cazzo per carità di Dio però effettivamente ti ne accorgi perché appunto ti fa male le ginocchia poi vedi gli atti che vanno più veloce cioè lo fai con lo spirito ok mi sono fatto una giornata fuori va bene però se vuoi correre bene dignitosamente un minimo di spirito competitivo esce fuori sì perché poi ce l'hai nel senso essere superati comunque poi vieni sempre superato dal vecchietto che non gli daresti due lire dalla mamma col passeggino porca miseria esatto almeno mi è successo in tutte le mie gare anche in quelle che sono andate meglio comunque mi è successo quella col passeggino mi manca però a Firenze la ricordo bene mi ricordo invece una volta che ho fatto la Stramilano con mia moglie quindi comunque in tempi un pochino più rilassati a un certo punto c'è superato una bambina che penso aveva avuto 7 anni che però era fortissima perché era lì col papà che la spingeva lei andava di brutto oddio io non so se avessi dei figli non so quanto li spingerei a questo punto a dire dai correte a 7 anni per fare l'1 ora e 45 non lo so quello che potrebbe essere su una mezza francamente ero una 10 non ero una mezza ok però comunque sarei più per lo spirito vai divertiti fai quello che minchia vuoi e va bene però a me la stava divertendo andava anche di brutto quindi unisce l'utile a dilettevole bravo esatto e invece un altro aneddoto personale che ricordi legato alla corsa che può essere di una gara o no posso raccontarti l'ultima mezza che ho fatto che è quella di di Busto Arsizio che tra l'altro è la la mia città natale la città dove diciamo da ragazzino solo non uscivo eccetera e infatti è stata bella per quello un po' perché erano le mie strade cioè dove ho fatto la patente dove uscivo con gli amici e un po' perché ovviamente ho ancora amici lì e tra l'altro erano dentro l'organizzazione quindi anche in questo caso ho avuto un mio amico che era che indicano il percorso cioè volontari che indicano il percorso era lì quindi anche lì passare avere un po' di sostegno emotivo è stato bello più finalmente iniziavo anche a avere degli amici runner quindi sono andato lì ho visto un po' di gente che conoscevo ecco mi fa sempre piacere scambiare due chiacchiere perché per la fine i momenti in cui ti ritrovi sono anche quali delle gare quindi è stata una malattura un po' mezza nostalgica mezza cioè comunque dell'amicizia e nonostante tutto ho fatto il mio best quindi perché comunque la mezza malattona molto veloce tutta in piano c'è proprio una un cavalcavia un croce in tutto in ventun chilometri quindi lunghi rettiline in cui riesci a spingere infatti lo dicevano che era una mezza dove fare il tempo effettivamente così è stato dici che sei timido ma alla fine di gente ne conosci e ora dopo Runner's Tales la prossima volta che ci sarà si spera qualche raduno o qualcosa ci saranno persone da salutare covid permettendo anche a me piacerebbe fare qualche attività di ritrovo eccetera perché comunque un minimo di community in questi mesi si è già formata fortunatamente però non è il momento sì assolutamente ho visto anche che hai iniziato a fare dei mini video giusto oggi anche se questa puntata uscirà più avanti però oggi ho visto che hai iniziato a fare dei piccoli video su Instagram sì si sperimenta non ho comunque Instagram dà un sacco di possibilità e ho appunto deciso di provare anche a fare un video quello che ho fatto oggi è sul mio kit da lungo cosa uso per fare i lunghi e ne sperimento vediamo come va prima impressione che hai domanda da uomo di marketing questa com'è il ritorno secondo me non è lo strumento migliore su Instagram di GTV perché comunque porta via tempo l'utente magari quando scorre il feed non non sta tutto il tempo a dedicarci comunque è un video che ho fatto alla fine di 4 minuti quindi ho un video che te lo salvi per guardarlo in un secondo momento se proprio ti interessa l'argomento ma secondo me non è il metodo migliore magari più più le storie magari si prestano meglio se proprio voglio fare il parlato perché quando guardi le storie sai che magari vecchia gente che parla io da utente lo uso spesso per sentire vari divulgatori magari anche nell'ambito scientifico oppure gente che parla di libri o altro quando guardo le storie mi sta bene che mi parlino perché almeno mi raccontano qualcosa si è l'intento diverso dell'utente si 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 assolutamente così che libri leggi più curiosità che genere di libri leggi io leggo tutto quello che mi suggeriscono ah perfetto no la mia passione sono i fantasy una valangata e poi ho anche una passione un po' per i romanzi storici diciamo comunque magari raccontano un pochino di storia vista da un punto di vista più narrativo che almeno un pochino più soft così quella sono due generi che preferisco poi però effettivamente qualsiasi libro mi dai da leggere più o meno lo leggo se mi dici che ne vale la pena quindi se avete dei libri da suggerire suggeriteli oltre a proporvi per Runner's Tales suggeriteli anche dei libri grazie invece ora ci stiamo covid permettendo ti stai anzi non ci stiamo sei a tiro per la tua prima maratona che sarebbe quella del lago maggiore il primo novembre intanto i news se si fa o no avevano scritto ieri che devono sentire la non la prefettura comunque le autorità locali e hanno rinviato domani mattina perché hanno rinviato proprio l'incontro quindi domani mattina domani in giornata dovrebbero pubblicare qualcosa relativamente allo svolgimento il problema adesso è decidere se farlo o meno sia che la facciano o meno perché non nego che i dubbi sono tanti in questa fase soprattutto perché Lombardia basta con i numeri la situazione è un po' preoccupante ti capisco benissimo anche se anche noi abbiamo avuto il nostro picco qualche un mese fa ormai però capisco benissimo la situazione ho visto che la mezza di Pisa che hanno fatto cos'era due settimane fa l'hanno fatta molto bene ho visto proprio le foto di video a livello organizzativo però era anche molto meno partecipata e hanno limitato molto il numero di iscritti anche perché se no era ingestibile obiettivamente non so come andrà la tua non ho visto quanti iscritti aveva Pisa qua del Lago Maggiore ha messo il tetto 800 no allora sono più o meno come Pisa erano forse qualcosa in più addirittura a Pisa perché c'era sia la 10 che la mezza quindi forse era anche qualcosa in più invece lì 800 solo la maratona però non so non so il totale delle gare però e comunque come sta andando la tua preparazione sta a prescindere che si faccia o no insomma la preparazione mi sta piacendo molto ormai è quasi finita quindi posso dire che mi è piaciuta molto è la prima volta che seguo alla lettera una tabella l'ho presa dal sito di l'ho presa dal sito di albanesi punto it e quella per la monotona lui ti dà delle indicazioni per dire in base a quanti allenamenti fai in base a quante settimane di preparazione hai puoi tagliare ti dice cosa tagliare tendenzialmente quindi mi sono preso tutto quello che diceva l'ho messo lo so riportato nella mia nota e ho iniziato a seguirla mi sono trovato molto bene un po' perché essendo un programmatore se tu mi dici esattamente cosa fare io lo faccio esattamente e quindi quindi sì è stato positivo da quel punto di vista l'altra cosa che ho trovato positiva ovviamente avevo un'indicazione di quali allenamenti fare e quindi anche di tutte le variazioni di tipo di allenamento quindi di varie ripetute di vario tipo fai progressivi fai lenti e tutto quanto e l'altra cosa che ho trovato positiva è che effettivamente da quando inizi la prima settimana da quando finì ad oggi ho notato che i miglioramenti si vedono vista d'occhio per esempio le prime settimane ero avevo come obiettivo più o meno tutte le settimane della tabella 70 km la settimana io nel periodo pre-vacanza arrivavo a 50-60 quindi comunque l'incremento abbastanza consistente effettivamente a inizio scheda facevo fatica adesso li faccio e sto bene comunque arrivo a fine settimana che non mi sento esausto come magari potrebbero essere le prime settimane e anche allenamenti come il progressivo di 18 km che ho fatto oggi effettivamente sento che lo faccio e non non ho ripercussioni sul resto della giornata come magari succedeva quando facevo i lunghi prima di fare la maratona da quanti km si arriva credo che tu sia già nella fase di scarico immagino giusto quanti km hai fatto la settimana di picco per curiosità 81 ok neanche tantissimi allora sì sì ero arrivato a 95-4 non mi ricordo quando ho fatto quella l'anno scorso diciamo sempre sopra i 70 ma il picco è stato soltanto di 10 km e hai fatto tutto fai da te quindi hai preso questa tabella e l'hai presa più o meno pari pari oppure ci hai preso consigli anche da qualche esperto cosa hai fatto l'ho presa l'ho seguita penso al 95% ho fatto una modifica su una cosa su un allenamento che proprio non mi piaceva non lo capivo e ho deciso che quello lì non lo facevo pedissequamente albanesi quindi fino alla morte ho capito sì anche perché come mi diceva una mimica runner lui è cattivo in effetti è tosto quindi già una tabella così tosta dico ok ho posto così è come mettere un'asticella un po' più alta rispetto ad altre tabelle che ho visto no sì perché io ho visto la tua la storia che raccontavi della tua mezza di questo weekend e effettivamente hai fatto più che un discreto tempo pur essendo un allenamento tra virgolette in preparazione sì alla fine neanche due minuti in più rispetto al mio personal best però sì non l'ho fatta proprio passeggiando comunque la solità alla fine è abbastanza stanco però sentiamo che se avessi spinto l'avrei l'avrei superato al best sì sì infatti tra il dire il fare bisogna farlo no 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 ma sono sicuro parlo anche per esperienza personale che ti ritroverai con una base migliore anche per la mezza e secondo me anche per la 10 chilometri è chiaro che ora sei perché far tanti chilometri fondamentalmente aiuta anche per distanze molto più brevi è chiaro che perdi un pelino di esplosività ma sulla mezza non è che devi essere super esplosivo quindi secondo me vedrai che se tu facendo le corna tra un mese se uno riesce a correre bene potessi spararti tranquillamente una mezza col personale secondo me sì sì condivido c'è qualcos'altro che hai imparato di questa preparazione alla maratona che si potrebbe consigliare che puoi consigliare a chi ci ascolta vediamo di fare qualcosa di utile per il sociale non so se ho capito bene la domanda però secondo me un'altra cosa importantissima che si impara quando si fa quando si prepara una maratona è l'aspetto mentale perché sì sì hai capito benissimo ok perché effettivamente quando ti metti in testa l'obiettivo e comunque la maratona è un obiettivo tosto devi metterti di impegno devi dire anche se non hai voglia devi uscire ovviamente se proprio il tuo fisico ti dice di no bisogna sempre ascoltarlo però se magari quella mattina più vigina non sai cosa fare o se adesso che inizia a far freddo inizia a dire no ma fa freddo beh faccio domani non te la capi più quindi devi anche rafforzare la mente perché comunque l'obiettivo da raggiungere è un obiettivo che non va sottovalutato e quindi devi essere pronto per tutti cioè in tutti tutti gli allenamenti poi comunque si parla sempre di una preparazione di due due tre mesi quella che ho fatto io poi ovviamente dipende dal punto di partenza da cui si arriva però comunque si parla di uno di uno sforzo che si fa per qualche mese se ci teniamo a fare la maratona ti metti in testa che vuoi farla sai che per quei due tre mesi dovevi fare qualche sacrificio e che poi anche questo non è solo fisico perché per esempio è cosa va incontro assolutamente assolutamente un weekend tutte le mattine lascio mia moglie da sola una mattina e comunque si sa che per un lasso di tempo limitato si fa lo sforzo entrambi ma quando non hai voglia di correre oppure c'è la pioggerellina rompipalle come fai cioè ti motivi è un modo per motivarti o semplicemente dici ok ho 10 o 10 km da fare li faccio e minchia vai vado la tattica è non svegliere il cervello tipo ti svegli fai corazzone ti metti le scarpe quando sei già fuori ormai sei fuori ok cammini quindi a quel punto lì perché si inizi a pensare non lo so poi finisci che non lo fai quindi io fai sempre il solito percorso più o meno c'è il giri intorno a casa tua oppure ti piace variare vai a qualche parte diversa io ho ascoltato giusto non mi ricordo se ieri mattino stamattina la tua puntata quella che dicevi sono un runner se sono un runner se e secondo me manca una cosa che è sono un runner se hai un percorso per ogni chilometro che devi fare cioè se devi fare 10 km hai un percorso se devi fare ne 12 sai che devi fare quel giro se ne hai 15 sai che devi fare l'altro giro effettivamente hai ragione e io sì diciamo comunque io ho la fortuna di avere un parco il parco delle groane che è un parco immenso che però non sto non sto usando per allenarmi sulla maratona perché troppi sali scendi e quindi non riesco se devo fare lavori sul ritmo non va bene però comunque sì ho dei percorsi standard per ogni chilometraggio che devo fare dai più o meno per tutti i chilometri perché poi alla fine ho un pezzo che è un giro d'anello quindi se devo fare diciamo 20 km faccio quel giro una volta se devo fare 30 km faccio quel giro due volte è perfetto ti invidio un po' da questo punto di vista sì sì perché io abitando proprio in centro percorsi così non li ho cioè al massimo dei parchetti che se faccio tutto il giro è un chilometro e mezzo quindi lo faccio anche quel chilometro e mezzo più volte però mi rompo le palle onestamente effettivamente non ti passa più non ti passa più esatto per carità c'è Kilian Jornet che non so se hai visto recentemente ha fatto su pista tipo 86 km adesso non mi ricordo una roba del genere quindi per carità ci si può riuscire però è impegnativo sì che c'era anche tipo non mi ricordo chi aveva fatto una specie di meme che diceva che avevi fatto tipo 88,9 km fanno 89 fai cifra tonda perché è stato mi ha dato fastidio anche a me che sono un amante di queste cose da nerd perché gli mancavano adesso non mi ricordo tipo 200 metri e 30 secondi per fare cifra tonda sia con i chilometri che con le ore e non lo ha fatto cazzo a fallo maledetto e poi bellissimo se ci fai caso su quel post su instagram magari se mi ricordo lo metto nelle note per chi se lo fosse perso che si vede che lui due volte è andato a pisciare probabilmente perché è uscito dal tracciato della pista e è andato in cima finalmente è andato a far la pisciatina non ci ho fatto caso ma se mi rimetti lo riguardo sì sì se mi ricordo anzi me lo scrivo aspetta me lo segno Kilian eh sì me lo segno così me lo lo metto nelle note se lo fosse perso recupero anche il duel cesso di Kilian Jornet ma invece hai dei percorsi che potresti consigliare per chi viene nelle tue zone e ricorda anche di dove sei magari così se c'è qualche floresto che viene io abito in zona Saronno che è la città diciamo più grande della zona e appunto come dicevo il parco Tregrane è un parco immenso in realtà è più un parco per ciclisti diciamo chi fa mountain bike perché veramente puoi girarlo in lungo e in largo sono tanti chilometri però percorsi effettivi qua vicino si può arrivare al Villoresi che è un canale che praticamente taglia da qui va fino penso penso Monza ma non lo so perché appunto anche qua è un percorso da fare in bici comunque diciamo che è una zona abbastanza naturalistica perché avendo questo parco molto grande si riesce a correre per tanti chilometri cioè non si hanno difficoltà ad avere tracciati lunghi ok ok invece è proprio qua vicino quanto vicino dammi un'indicazione no non lo so è così se hai dei consigli su un posto che dici ah quel tracciato lì è figo fatelo però se non c'è cioè va bene il parco non ti preoccupare non dobbiamo fare la guida turistica no una via fissa che farò dopo la maratona è il giro del lago di Varese che sono 26-28 chilometri anche quando mi ricordo la distanza esatta che non ho mai fatto perché appunto io prima di fare la maratona non avevo mai superato i 22 chilometri penso però anche qua l'ho tracciato molto saliscendi che è molto peggio del mio parco quindi anche per questo motivo l'ho scartato per i lunghi però una volta finita la maratona voglio farlo perché comunque il lago di Varese è molto bello ed è vicino attaccato quasi al lago di Comabio che è dove ho fatto il lunghissimo un paio di settimane fa che è zona diciamo al confine tra Lombardia e Piemonte ok quindi cioè quello è lo faresti in autonomia ovviamente non è una gara che c'è il giro del lago cose così te lo vai lì te le tue borracce e si te lo fai esatto però è comunque piacevole a me non anch'io i miei progettini di questo tipo anche perché ora è difficile fare altrimenti e quindi qual è la tua gara a sto punto da sogno futura si spera di poter fare c'è uno due tre anche nomi di gare che ti piacerebbe fare direi zero non ne ho io vado molto a caso ok diciamo che non sono molto un runner turista infatti tutte le mie mezze manotone sono state in Lombardia e non ho mai provato l'esperienza appunto di andare fuori per fare una gara mi piacerebbe farlo però nel 2019 non l'ho fatto nel 2020 il treno è passato diciamo infatti anche mi sarebbe piaciuto andare a Ravenna che è un po' perché secondo me sono stati gli organizzatori molto bravi a resistere nel senso che quando Firenze e Venezia hanno mollato il colpo loro sono usciti tipo il giorno dopo con un comunicato che sarebbero andati avanti con anche un atto di coraggio perché alla fine in questo periodo insistere e non mollare è stato veramente coraggioso e un po' perché quella zona lì è una bella in Romagna mi merita assolutamente è una bella zona non so se si fa o no alla fine non ho controllato però mi sembra che sia ancora operativa perché comunque tutte le gare FIDAL qua metto un disclaimer che non ne sono assolutamente sicuro però mi sembrerebbe che siano confermate per ora infatti non è anche quella dell'ago maggiore non ha ancora disdetto appunto per lo stesso motivo perché comunque teoricamente si possono fare ma poi dipende anche dalle autorità locali ok diciamo che ci fai sapere come vanno visto che tanto questa puntata uscirà quando probabilmente la tua di maratona sarà già fatta si spera fatta oppure non fatta comunque sarà passata almeno facci sapere com'è andata se l'hai fatta o com'è andata se non la fanno se non l'hai fatta ci aggiorniamo anche il pubblico successivamente vabbè se non la fanno me la faccio da solo quindi è vero bella giusto quindi se decidessi te di non farla o loro non annullano con queste gambe con questi due 42 chilometri nelle gambe te la fai in solitaria per i cavoli tuoi o niente te la fai giusto adesso sto tergiversando un po' troppo perché poi dovrei organizzarmi però una volta che decido se fare se non fare il lago maggiore o se non fanno il lago maggiore vorrei appunto prendere qualche amico che si piazza in punti strategici a farmi il ristoro appunto scegliendo a quel punto il giro d'anello che ti dicevo prima probabilmente perché almeno si piazza in un posto fisso che potrebbe anche essere comodo tipo un bar o qualcosa del genere almeno visto che comunque il primo novembre non questo faccia caldo e mi farebbero dagli stori solo per le bevande invece per integrazione mi porterei la roba dietro e in più se riesco a raccattare magari uno o due amici che mi danno supporto almeno per una decina di chilometri in uno giusto per non farla completamente in solitaria ti fanno da pacer sì sì della specie di pacer sarebbe carino e l'idea c'è perché non ti nego che con una preparazione fatta così dubito che nel 2021 riuscirò a farla ma addirittura dici sì come sei pessimista no dai per motivi personali assolutamente non per il covid però senza fare spoiler ma non penso di riuscire a farcela vabbè ma fidati che è una cosa che si dice lo dicevo anch'io quando preparavo la maratona soprattutto quando sono arrivato alla settimana di picco quella dopo ho detto il peggio è fatto non lo farò mai più poi in questo 2020 vabbè c'è stato quello che c'è stato e non l'ho preparata però se non ci fossero stati i casini io probabilmente sarei stato a Firenze di nuovo è che non mi sono manco messo perché poi infatti l'hanno cancellata e niente però è una cosa che dicono tutti guarda poi alla fine dopo che tagli il traguardo della maratona passata la prima mezz'ora dici no cavolo adesso devo rifarne un'altra vabbè finché non provo faccio lo San Tommaso finché non provo no è giusto è giusto ma anche io ho fatto esattamente come te non ti preoccupare allora torniamo chiudiamo il discorso quindi dai della maratona del covid perché ci siamo rotti le palle di parlare di quello parliamo invece di una domanda che ho fatto anche a Sirio che voglio fare anche a te perché credo che diventerà la domanda di tutte le interviste che farò perché è un annoso problema per tutti noi tapascioni come fai convivere la corsa con le altre passioni e soprattutto con gli altri impegni famiglia lavoro beh qualsiasi altra cosa allora ti do doppia risposta nel senso pre-covid e post-covid porto dal post-covid che è più facile appunto facendo smart working mia moglie invece stanno continuando ad andare in ufficio quindi lei si alza abbastanza presto io mi alzo con lei facciamo colazione più o meno insieme e poi inizio a correre così posso tornare e iniziare a lavorare quindi in realtà nella vita di coppia lavorativa in questo momento non sto avendo difficoltà perché riesco a fare tutto in un momento in cui in cui sono libero inizialmente pre-covid invece era un correre contro il tempo perché infatti in settimana non riuscivo mai a fare allenamenti facevo soltanto allenamenti di 5-7 km 8 massimo perché appunto io tornavo dall'ufficio un pochino prima avevo quell'oretta magari di differenza tra il mio ritorno e quello di mia moglie facevo la corsetta molto spesso a ritmo medio alto per iniziare a tornare a casa in tempo per farmi la doccia preparare qualcosina da mangiare in modo che quando arrivassimo moglie fosse già il covid è stato trasformato anche da runner serale a runner mattiniero assolutamente sì infatti è una cosa che trovo molto positiva perché correre la mattina lo preferisco a dirti la verità correre la sera la tentazione di non farlo era molto più alta perché comunque torni a casa anche lì voleva dire entrare prendere cambiarsi uscire senza neanche pensare a cosa si stava facendo perché appena il stesso discorso che facciamo per la mattina appena ti attimo attimo a pensare esco non esco finisce che non esci e la sera la trovi molta più difficoltà invece la mattina una volta che ti alzi e che sono le sette di mattina alle sette non è che puoi iniziare a lavorare perché comunque in un minuto a facciarti con i colleghi ti metti le scarpe ed esci si si belin se ti capisco su sta cosa qua perché io ho corso alla sera ogni tanto nella mia vita l'ho fatto di sera tardo pomeriggio però se è successo è perché stavo preparando la maratona e non ero riuscito per qualche motivo ad andare al mattino o perché ero d'accordo con i miei amici di andarci tutti insieme se no io la sera sono esattamente come te io arrivo morto più che fisicamente e psicologicamente dal lavoro e col cavolo che faccio qualsiasi cosa ma anche altre tipologie di attività tendenzialmente arrivo e svacco sul divano si no ti capisco si c'è anche prima del covid c'era anche tutto il discorso di che io sono un pendolare quindi comunque le due ore di treno si fanno sentire sia perché perché comunque sono è vero che sei seduto però comunque il pendolare è abbastanza stancante a furia di rincorrere treni e tutto quanto e poi dall'altra parte sono comunque due ore di vita che guadagni perché effettivamente il tempo il tempo che non sono in treno sono a correre adesso potevi fartela a piedi era un po' troppo lunga due ore mi sa che il ricorso era un po' troppo sì soprattutto mi sarei dovuto fare la doccia in ufficio tutti i giorni senza avere una doccia in ufficio ecco è quello il problema perché c'è tanta gente che la fa questo il commuting come dicono quelli bravi però effettivamente al di là della distanza bisogna anche avere le attrezzature per poterlo fare dovevi fare il ritorno forse però col cavolo lo fai il ritorno poi comunque correre a Milano non è il massimo ogni tanto li vedo però si fermano troppo i semafori a me fermarmi i semafori è una cosa che mi spezza troppo il ritmo e mi sei uno di quelli esatto sei uno di quelli come dicevo io nella puntata che hai appena ascoltato che col cavolo che si fermano al semaforo vedi no se è rosso mi fermo no appunto come ti dicevo qua è abbastanza tutto parco quindi io ho solo un semaforo da superare passato quello è tutto abbastanza libero quindi da quel punto di vista percorrere questa zona è fantastica infatti dopo un po' di spostamenti ho trovato adesso mi sono trasferito qua da da un paio di anni ormai e effettivamente la zona è bella al contrario per esempio della mia penultima casa dove non avevo i percorsi e avevo molto ridotto la corsa perché i percorsi che avevo proprio non mi piacevano e non trovo la motivazione sì quindi bisogna trovare effettivamente sono d'accordo perché bisogna trovare anche un compromesso tra virgolette tra la motivazione e i percorsi che fai perché a volte esci di casa e non hai niente di bello dove andare a correre è più difficile effettivamente sì sì sono d'accordo ma invece tu non è tantissimo però che sei runner diciamo solo runner mettiamola così cos'è un paio d'anni sì due anni due anni e mezzo quindi sei mezzo mezzo neo runner non lo sei più neo runner però insomma l'hai un po' superato ma non sei ancora super da tanto tempo insomma come me tra l'altro quindi siamo sulla stessa barca siamo tutti amatori vabbè quello anche tra 45 anni sarò amatore se mai riuscirò a muovermi ma chi consigli daresti tu allora ad un neo runner o uno che vuole avvicinarsi alla corsa consigli classici che si danno andare per i gradi non iniziare subito a cannone ascoltare il proprio corpo quello sempre indipendentemente poi più si corre più si riesce a farlo quindi se all'inizio non viene naturale col tempo poi si impara anche ad ascoltarsi grazie alla corsa e poi fare tanto fondo non importa se il tempo è lento non importa se ci si sente lenti poi i risultati si rendono sul lungo termine la corsa è uno sport di pazienza vero e quindi sì è vero si possono fare magari allenamenti un po' più veloci quella volta che si vuole correre per spingere magari sei nervoso tutta la giornata di lavoro e vuoi farti la la corsa a cannone falla però penso che il fondo è importante nella prima nella fase iniziare quando si inizia a correre se si inizia già a correre perché poi lo step diciamo zero è quello di alternare camminata alla corsa sì però appunto fare le cose per gradi poi man mano una volta fatto il fondo si vedrà che si iniziano ad aggiungere ripetute si aggiungeranno i progressivi si aggiungeranno tutti i vari tipi di allenamento i fartle che li allunghi bisogna solo avere pazienza se ci piace correre con un pochino di tempo si arriva a tutto è vero qual è l'allenamento che ti piace di più visto che siamo entrati in discorso fartle che progressivi eccetera eccetera io andrò a contocorrente ma le ripetute lunghe sono le mie preferite ma vedi ma sai che io forse non ci sei ancora arrivato se te sei uno di quei pazzi che fa il completista e si spara tutte le puntate dalla prima all'ultima ma ricentimento per la puntata sulle ripetute e sai quanti che mi hanno scritto dicendomi ma guarda che a me piacciono le ripetute a me non tanto a me magari non quelle lunghe non quelle con riposo da fermo ne faccio poche effettivamente faccio più quelle con recupero attivo e soprattutto adesso per la maratona che le ho fatte con un tempo specifico da tenere comunque sono delle mini sfide cioè piacciono perché sei sempre allerta perché ogni chilometro devi farlo più o meno nel range che ti sei dato e quindi è comunque una sfida una sfida chilometro dopo chilometro e tra l'altro una di quelle che mi era piaciuta di più in realtà un ripetute lunghissime che era tipo un 3 per 8 chilometri adesso non mi ricordo il ritmo ma forse ritmo gara meno 10 con un chilometro di recupero ritmo gara più 20 bello e anche farle così lunghe sono carine perché comunque cioè alla fine ti spari 27 chilometri quindi certo ti fai scherzando ma comunque è quella cosa che dici ognuno di più tu ti dici adesso devo fare altri 8 così e alla fine riesci a portarla a casa anche perché riesci a rimanere più concentrato secondo me quando quando è l'obiettivo chilometro per chilometro lo fai maggiormente infatti l'ho notato anche rispetto a quando ho allungato i chilometri prima dell'estate diciamo che lì si correvo ma corricchiavo cioè lì ho fatto veramente tanto fondo lento e effettivamente poi fai si vai quasi in automatico però non sei tanto concentrato lo fai si lo fai per svagarti un po' e la minchia così riesci a darti un bel un bel obiettivo e lo raggiungi poi quando lo raggiungi sei contento perché poi alla fine bisogna anche festeggiare i propri risultati ah beh guarda bisogna festeggiare con una bella birretta post allenamento tu l'hai eliminato l'alcol preparando la maratona o no? io avevo limitato molto limitato poi mi sono ripreso successivamente io in realtà io in realtà non essendo più già non essendo più non sono mai stato probabilmente un beaver come si dice non bevo tantissimo non l'avevo bevuto tantissimo a parte qualche fase ma più da giovane diciamo quindi non è che ho dovuto fare grandi limitazioni per la corsa anche adesso sono più o meno una birra a settimana un bicchiere di vino una domenica però appunto soprattutto quest'anno dove non ci sono neanche le occasioni di bere con chi soprattutto perché sì ok un bicchiere di vino in casa lo fai siamo in due quindi e invece a livello di alimentazione ti hai aggiustato qualcosa sia per la corsa e in particolare per la maratona o te ne sei fregato altamente no diciamo anche qua come stesso discorso più o meno ho sempre tenuto abbastanza ad occhio l'alimentazione negli ultimi anni indipendentemente dalla corsa quindi il giusto apporto carboidrati proteine verdure tutto quanto tutti i pasti eccetera ovviamente non sono mai dato non sono mai dato da una nutrizionista però comunque diciamo che le linee base cerco di tenerle insomma la sua classica piramide del cibo dove ti dice di non mangiare di mangiare più verdure e via dicendo più sali meno mangi come per esempio i dolci anche se io sono molto goloso di dolci infatti è la cosa su cui sgarro di più di tutto in generale però appunto non ho fatto grossi sacrifici per per la corsa anzi in questa fase dove i chilometri sono aumentati sono aumentate anche le dosi sono aumentati anche il numero di spuntini che faccio durante il giorno sempre mantenendo una certa logica ovviamente non mangiamo non capo il frigo per la prima cosa che capita ma comunque un pochino anche quelli programmandoli per dare il giusto bilanciamento tipo adesso faccio due colazioni una veloce prima di uscire e una più sostanziosa quando rientro e beh fai reintegro insomma post allenamento fatto per veneno bravo bravo che sei una persona seria grazie domenica sono andato a pranzo da mia suocera e mi fa si tanto puoi correre e sbaltisci ho mangiato due tettine di lasagne esattamente il pranzo dell'atleta al carico di carboidrati si vabbè è anche giusto mi fa togare la domenica a carità di Dio anzi a volte veramente io non sono di quelli che fa sto discorso qua cioè dico oh corso posso permettermi di mangiare come un maiale di solito non lo faccio sto ragionamento però è anche vero che se ho da andare a mangiare una pizza o qualsiasi altra cosa me la mangio non è che sto a vedere oddio tra un po' c'è da fare da questo o quell'altro anche in periodo pre-covid che c'era magari le gare anche perché noi non dobbiamo fare i record tra virgolette quindi non è che se ci mangiamo una pizza in più ci rovina la preparazione sì anzi visto che ci avviciniamo avviciniamo quasi all'ora ti voglio fare le domande quelle più più significative perlomeno per me ok c'è una sequenza che me le scrivo e cercherò di farle a tutti quelli con cui farò queste chiacchierate non so quanti saranno e chi saranno ma vabbè prima delle domande top per me è cosa ti ha insegnato la corsa disciplina ascoltarmi e poi si la gioia di correre perché comunque il tempo per me stesso perché comunque è vero che spesso ti ascolto la mattina quando corro però comunque le mie uscite senza ricordare le faccio ma fai bene a farle perché rovinarti con la mia voce no anzi sei un folle dovresti correre con la musica o con qualcun altro ma correre con me che faccio morire la musichetta sì credo che tu sia l'unico che mi ha detto qualcosa in favore di quella musichetta io non la tolgo duro e puro fino alla morte ma in verità non ho ricevuto così tanti consensi no no lasciala perché ormai è tipo cane di pavlo sai che quando la senti devi correre si sbavi sì sì quando la senti inizi a correre sì sì invece che cos'è per te il running questa per me è la domanda più importante tra virgolette è domanda difficile è una è una passione lo so infatti me la tengo per ultimo perché sono un infame è difficile sicuramente è una passione ok vuol dire che ho già preso 100 comunque quindi diciamo sicuramente la passione perché perché poi quando quando lo fai passione gioia perché appunto poi quando lo fai che ci metti impegno ci metti tempo è anche gioia vedere i risultati che questa questa passione ti dà che non è solo la questione di tempo ma anche la questione di di benessere fisico e penso che la cosa principale può essere questa comunque è uno star bene è un è un come stessa risposta di prima del tempo per noi stessi che che ci ridichiamo che ci ascoltiamo per esempio la fotocoppa della risposta di prima però comunque penso che che il concetto sia quello che 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 riesce a darti la emozioni che riesce a darti possibilità di libertà di pensiero libertà di psicoanalizzarsi ci aiuta a sfogarci quando siamo arrabbiati ci aiuta a rilassarci quando non abbiamo niente per la testa cioè comunque la corsa all'anno che è tante cose in un solo gesto che è quello di poi di pedalare di macinare chilometri sì che poi è un gesto semplice perché a volte cioè è quello più naturale di tutti non per fare il predicozzo di quelle corse naturali a tutti i costi però rispetto a qualsiasi altro sport teoricamente te potresti non avere neanche le scarpe come fanno i Taraumara e corri scalzo nei deserti sì sì adesso non arriviamo a quel punto lì però è tanto semplice ma poi quando inizi a farlo scopri che c'ha tante sfaccettature che non è non lo rendo ti fanno capire che non è proprio solo un gesto semplice ma è molto di più no assolutamente e non è semplice neanche a livello economico perché uno dice ma sì mi faccio le scarpe esco con la maglietta poi col cavolo perché se ti inizia a piacere la corsa e ti compri l'altro paio di scarpe ti compri i pantaloncini ti compri la maglietta e la canotta e la borraccia e gli integratori e la fascia e l'orologio e alla fine col cazzo che sono 100 euro di scarpe esatto la corsa economica è una menzogna all'inizio sicuramente sì cioè ha il vantaggio che se vuoi per iniziare può iniziare chiunque con un investimento pali a poco effettivamente anche se corri con la magliettona di cotone che ti fa sudare il triplo puoi farlo lo stesso poi quando inizi a farlo anche come noi a un livello medio basso comunque inizi a spendere un po' di soldi ma il bello è anche quello guarda perché comunque se è una cosa che ti appassiona secondo me ce li spendi volentieri i soldi poi a me piacciono tanto che ne so i numeretti che trovi sul Garmin poi non sembra un belino perché ma non è che sto a vedere il passo la cadenza quelle cose lì però è divertente vederli ma sì beh poi essendo appassionato di basket per me le statistiche sono bravo una cosa che è difficile da spiegare agli altri però il referto sì noi i numerini ci piacciono quindi esatto prima di chiudere c'è qualcosa che secondo te ci siamo scordati di dire che vorresti dire allora mi hai fatto parlare per un'ora e io di solito parlo pochissimo quindi proprio no non ho in mente niente se non no direi che direi no direi che abbiamo ok ok va bene non c'è problema va bene allora facciamo così dici tutti i vari riferimenti dove trovarti per benino poi io li riscriverò comunque nelle note dell'episodio però raccontaci tutto quello che ti pare a te su dove trovarti cosa fai quello che vuoi ok allora il blog è www.runners.tales.it a cui è associata la pagina instagram che diciamo che è il canale principale che è runners.tales ho da poco aperto anche un canale telegram come hai fatto tu che lui questo qua è runners.tales tutto attaccato perché non piaceva fare le cose uguali e invece insieme al canale telegram ho aperto anche una pagina facebook da poco quella invece appunto è runners.tales.it perché nessuno degli altri due era disponibile quindi diciamo disomogeneità totale potenzialmente cercando runners.tales spero di uscire su facebook hanno fregato il nome eh sì ce ne sono tanti perché mi piaceva il nome però era un pochino usato in altri contesti è un problema comune ce l'ho anch'io perché anche da 0 a 42 non c'è già fregato qualcuno in altri posti comunque a questo sito ci sono i link a tutti gli altri canali quindi basta ricordarsi runner.tales.it e da lì potete arrivare ovunque ok direi che non c'è altro mi viene in mente nient'altro comunque come detto c'è tutto quanto nelle note perfetto grazie mille ma figurati anzi facciamo l'invito mi raccomando oltre a seguirlo ovviamente tutti i vari canali se avete come già detto se avete delle storie vostre o anche qualcuno che conoscete magari che potrebbe avere una storia valida mandatele sempre a disposizione va bene allora Giuseppe grazie veramente è stato un piacere averti qui grazie di questa oretta che abbiamo passato in compagnia mi ha fatto molto piacere averti qua grazie a te come per la diretta dell'altra volta è stato davvero un piacere anche per me e spero di fare qualcosa presto ancora con te ma sì ci inventiamo qualcosa pur di chiacchierare di running ci inventiamo qualcosa va bene va bene allora chiudiamo qui grazie a tutti quei pazzi che hanno superato l'ora per sentirci parlare di corsa grazie mille grazie Giuseppe e direi che ci sentiamo alla prossima ciao 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 ciao